Parto dal disegno che ho fatto perché, come dicevo, mi sono permesso di fare disegni ampiamente simbolici o, che tentano d'esserlo, ampiamente allusivi, ampiamente metaforici. Siccome il muoversi del ragazzino ebreo nella giungla new yorkese incontra moltissimi ponti e costantemente il fiume Hudson, allora ho pensato di riassumere questi elementi dando con il rosso assegnato arbitrariamente all'idea dell'acqua che si muove, dell'acqua a cascatella e con l'improvvisa connotazione infantile, quasi da corriere dei piccoli, del pescatore, un poco il senso della complessità che ha questo narrare, che è un narrare tutto chiuso in sé, ma nello stesso tempo aperto a, come cercheremo di dimostrare, a moltissime aperture nelle più diverse direzioni. E pertanto la bibliografia risente di tutta questa variegazione di itinerari perché con Chiamolo sonno, edito da Lerici, abbiamo questo libro che lui fece, senza più fare altro, per 60 anni. Poi abbiamo i due Garzanti che rappresentano i prosiegui che lui diede da vecchio 60 anni dopo e Garzanti che, grande com'era, parliamo proprio di Livio, Garzanti li volle immediatamente e quindi abbiamo un gigante letterario che è stato fermo in operoso per 60 anni. E torneremo su questo argomento. Ho messo la Pivano, che è qua, perché, anche parlandole direttamente, e avendo per questa americanista un'immensa ammirazione, non si può non averla, la scoperta era che nemmeno un americanista di questo genere lo conosceva. Poi, arbitrariamente, nel senso che ci potrebbero essere altri nomi, altre strade, altri percorsi di indagine, io ho messo scrittori che potrebbero aiutare a comprendere come è potuto accadere che ci sia un caso rotto nella letteratura del Novecento. E quindi, ne si poteva consigliarne altre, viene chiamata letteratura dell'Esodo, letteratura della sofferenza, letteratura della Soa, in tanti modi, e ci sono tanti grandi. Questa setta tiene conto del fatto che siano il più possibili accostabili alla grandezza solitaria di Henry Roth. Solem Ass, indico le date per fare capire che è una certa America, la sua, quella di Roth, e Molche, il ladro, America, tre città, il canto della valle, il nazareno, l'apostolo, erano libri che ci aiutavano, ragazzi, negli anni 50 e 60, a capire le cose tremende. erano gli anni in cui si cominciava a fare i conti con quello che era stato sottaciuto nei 15 anni precedenti. Perché? Perché anche se la Germania aveva prodotto Hitler, la Soa, lo sterminio, i forni clematori, era un'indispensabile pedina della Nato. E quindi bisognava stare più zitti possibile perché i loro soldati avevano ripreso a stare nei ranghi e a consentire agli americani di avere un solidissimo muro verso l'est. e pertanto si sono persi tutti questi anni e adesso guardando al diario di Anna Frank ci saranno alcune sorprese per alcuni. Poi, per piccola che sia, questa storia della Soa, della Giuntina, è fatta straordinariamente bene. Questo è il famoso politologo nella nostra università, il pensiero politico dell'età di Roosevelt perché conta molto all'interno dei libri dei tre che non sono tre di Henry Roth. Uno che rappresentava per noi Fottwanger, l'ebraicità di lingua tedesca, ho messo a una sterminata produzione Jeff e sua figlia perché assomiglia di più a questa zona. Anche la terra promessa è in Audi 97, è quella che spinge verso una direzione che è quella del ritorno della Palestina, delle guerre dello Stato di Israele. Renzo De Felice partiva così storia degli ebrei italiani sotto fascismo opera di grandissimo ingegno e di capacità di scavo incredibile e poi ebbe la disgrazia di innamorarsi di un personaggio a cui dedicò una biografia in dodici volumi. ai naudi gli aveva chiesto 300 pagine fammi qualcosa su Mussolini te lo pago bene ridammelo tra i tre mesi si trasformarono in trent'anni e gli venne fuori un'opera in dodici grossi volumi. Prima De Felice era quello della storia degli ebrei italiani sotto il fascismo chi fra i presenti intende dedicarsi alla stesura di biografie è pregato di fare attenzione quando attocca un certo personaggio e questo è Bignardi la Repubblica è il grande silenzio dal quale comincio perché prima di tutto c'è questo mistero che è un mistero che non risolveremo è un mistero che resta come la bravissima Irene Bignardi mette in evidenza in questo articolo seguito alla morte nel 95 destinato a rimanere tale d'altro canto in una bellissima canzone degli anni 60 si parlava di ciò che era passato per il cammino tutto questo è passato per il cammino lo vedremo in moltissime occasioni prima di arrivare alla evidenza data alle immagini perché non stiamo parlando di una dimensione qualunque di scrittura e di letteratura stiamo parlando di 6 milioni di massacrati che è bene che non si stacchino mai da questa proposizione di lettura perché ci sono in giro delle cose perfino strane alla sconcertante adunata del 28 ottobre per ricordare la mattina la marcia su Roma a cura dei neofascisti di varie sigle il pomeriggio la resistenza contro quello che era successo c'era una maglietta che suonava come ci vorrebbe un Auschwitz grande come il mondo ed è stata fotografata da parecchi giornali se siamo arrivati fino lì evidentemente non solo la particolare grandezza di Roth ma anche ahimè questo non va anche il sonno su Roth diceva di essere morto nel 1934 a 28 anni è stato allora che Henry Roth l'autore di Chiamolo Sonno il protagonista del caso letterario più singolare del secolo di fronte all'insuccesso del suo libro la gigantesca opera quasi autobiografica su un'infanzia ebraica nel Lower East Side di New York decide di considerare morta quella stagione della sua vita e di considerarsi morto come scrittore il resto della vicenda fa parte delle leggende letterarie del nostro secolo Roth abbandonò i circoli letterari radical che aveva frequentato nella sua burruscosa avventurosa giovinezza lasciò il mondo di Ida Lou Walton che era stata la sua amante la sua maestra di vita la sua sostenitrice e scomparve con l'adorata moglie Muriel tra le montagne del Vermon dedicandosi ad allevare paperi e a crescere mirtilli e vivendo un lui ebreo laico cresciuto nell'ideologia comunista una drammatica crisi di coscienza che nel 1967 lo portò a staccarsi dal partito che per anni fu una delle ragioni del suo silenzio creativo nel frattempo ristampato nel 64 chiama lo sonno era diventato un successo planetario un autentico libro di culto e Roth nonostante avesse decretato la propria morte come scrittore tentava di scrivere con enorme pena passione fatica umiltà ambizione ora che Roth se ne è andato davvero a 89 anni lasciandosi alle spalle montagne di materiali non completati i suoi tre computer la modesta casa di Albuquerque dove viveva da qualche anno e da cui nel 1990 se ne era andata per sempre la sua amatissima Muriel sappiamo invece che lo scrittore non era morto a rispetto di un blocco creativo che lo aveva tormentato per 50 anni e accanto al suo primo leggendario romanzo che si alza con me un picco nella letteratura americana del novecento accanto al personaggio del piccolo David Searle il fratellino ebreo di Tom Sawyer e del giovane Orden la voce dell'immigrazione Idis e protagonista di una di un traziante poetico inquietante Bildung Roman nelle povere strade dell'opera di inizio secolo Rozzilassia opere da leggere e da riscoprire e allora vediamo di fare una sorta di marcia di avvicinamento nel leggerlo si comprende che lui e il suo gruppo di amici avevano un unico mito questo mito un editore italiano l'ha voluto dare in parte anche a noi è il poeta Carl Sandburg nato nel 1878 morto nel 1957 il suo libro il poema di Chicago ce l'abbiamo tradotto molto bene da Laura Ferri protetto da un personaggio molto strano molto curioso che era principalmente un latinista ma si occupava di un po' di tutto perché era uno scrittore un saggista un critico lo ricordo con affetto e pena perché è sempre stato un po' discosto un po' dimenticato si chiamava Luca Canali e come latinista si trova e si trova bene parecchio come narratore critico onnivoro con le varie lingue che sapeva molto molto meno io leggerò alcune poesie dai Chicago poems di Carl Sandburg perché è come se mi portassi nel gruppo di amici ognuno dei quali aveva questo libro sempre in mano capirete qualche cosa che riguarda un pochino l'aspetto più misterioso di tutto questo insieme di cose da studiare da capire da ricercare perché perché qui a un certo punto c'è una strana parola che farà sorridere molti dei presenti e c'è uno strano mondo e c'è uno strano vivere e c'è uno strano appartarsi che ci riguarda da vicino perché si riferisce al dolore alla sofferenza all'emarginazione degli emigrati emigrati italiani negli Stati Uniti a qualcuno forse farà ridere la cosa che si incontra in questo figlio dei Romani voglio dire figlio dei Romani a un povero emigrante italiano è che non sei finito bene perché effettivamente se tu sapessi cosa hai dietro le spalle miserabile affamato a Chicago ti comporteresti in un altro modo forse avresti un altro atteggiamento ma sei figlio dei Romani senza sapere chi sono i Romani perché i Romani sono solo i cittadini di una delle tante città che non rivedrai mai più figlio dei Romani lo spalatore italiano siede accanto al binario della ferrovia masticando masticando il pasto di mezzogiorno di pane e Bologna un treno passa vorticosamente uomini e donne ai tavolini rallegrati da rose rosse e giunchiglia gialle mangiano bistecche grondanti di sugo marroncino fragole e crema pasticcini e caffè lo spalatore finisce di masticare il pane secco con la Bologna lo manda giù bevendo dalla tazza dell'acquaiolo e torna la seconda metà delle dieci ore del lavoro che svolge ogni giorno mantenendo la massicciata finché rose e giunchiglie vibrino appena nei vasi di vetro intagliato che stanno esili e dritti sui tavoli della carrozza ristorante come fine a un fine ben mediocre deve evitare il tintinnamento della carrozza ristoranti che passano lì perché i ricchi non lo possono sopportare lui in tutto ha pane secco e la mortadella che negli Stati Uniti ricordava Ecco si chiama Bologna e infatti nella parte americana inglese dice Bread and Bologna siamo famosi nel mondo una attualissima che ci viene da quasi 90 anni ma pare scritta stamattina infatti si intitola Flussi Migratori l'odore di fieno fresco il vento della pianura la resero una donna con la forza della collina nelle ossa e mani forti e resistenti al lavoro e nel suo grembo c'era la passione per la vita lei e il suo uomo attraversarono l'oceano e gli anni che segnavano un loro riso li videro a contrattare compadroni di casa e droghieri mentre sei ragazzini giocavano sulle pietre e frugavano nei bidoni un ragazzino si è finito i polmoni con la tosse altri due con le adenoidi ne parlano ne corrono come la madre uno è dentro due hanno mansioni in una fabbrica di scatole piegano i cartoni si chiedono che desiderio e quale anelito di gloria palpita fievole dentro di loro quando nell'aria luccica la primavera o il verde dell'estate si imbrunisse non sanno che è l'odore di fieno fresco che chiama e il vento della pianura che prega affinché tornino a impossessarsi di nuovo della vita con mani forti e con passione siamo noi i flussi migratori tra la Bologna e le adenoidi da non curare perché non ci sono i soldi l'ultima è intitolata Negro io sono il Negro canto canzoni danzo più leggero dei fiocchi di cotone più solido della scura terra strade calpestate sotto il sole dai piedi nudi degli schiavi schiumi schiuma di denti il rompente fragore di risata amore rosso acceso del sangue di donna amore candido di bimbetti esuberanti amore pigro del suono del bengio coperto di sudore e teso verso la paga del raccolto rido sonoramente con mani come cosse pugni forgi strette sulla presa sorrido sognando nel sonno le antiche giungle passo come il sole la rugiada e grondo e mettendo vita nella giungla medito e mugolo al ricordo delle catene sono il negro guardatemi sono il negro ha quasi 90 anni questa poesia tragicamente terribilmente attuale prima di affrontare Roth è assolutamente indispensabile entrare almeno un poco nel suo mondo storico perché non si ha la sensazione che notizie di questo genere circolino molto ho ricordato tante volte il 27 gennaio prima in sinagoga e poi dopo al museo ebraico il nostro indimenticabile professore di filosofia ebreo già nel nome Ubaldo Lope Spegna simpatico e amabile oltre ogni dire allievo del croce toscanissimo che badava a dire io con quelli non centro niente io sono un crociano puro quelli piacciono a Faeti quei filosofi bizzarri del 600 io mi fermo a croce e è stata la nostra piacevole consolazione perché era simpaticissimo anno dopo anno ora l'ultimo brano prima dei pochi cenni storici è dal più celebre libro sulla Soa che noi possediamo è il diario di Anna Franco il babbo non lo so può brigarlo integro temesse che potesse dispiacere e io rispetto il volere del babbo possiedo tre edizioni integrali ma leggo quella censurata perché mi prende in un modo assolutamente incredibile per un motivo che si scopre subito sapete che Anna al diario aveva battezzato Kitty perché era la sua amica all'interno del rifugio segreto e pertanto non sono pagine di diario ma sono lettere tutte rivolte alla cara Kitty siamo il 9 giugno del 44 sarà internata tre mesi dopo e dopo si sa che è morta questo è ritagliato parecchio ma non manca l'elemento che a me serve per improdurre Roth e che vi segnalerò venerdì 9 giugno 1944 cara Kitty l'invasione va a gonfie vele gli alleati hanno il pieto boye villaggio sulla costa francese e combattono ora intorno a Caen è chiaro che lo scopo è di tagliare fuori la penisola su cui Esterburg ogni sera i corrispondenti di guerra parlano delle difficoltà che incontra l'esercito invasore del coraggio e dell'entusiasmo dei combattenti e raccontano episodi addirittura incredibili anche dei feriti già di ritorno in Inghilterra hanno parlato al microfono nonostante il pessimo tempo gli agliuatori volano continuamente la BBC ha informato che Cerchi avrebbe voluto seguire truppe di invasione ma ne è stato dissuaso da Eisenhower e da altri generali pensa un po' Kitti che razza di coraggio a quel vecchio che è certamente già vicino ai 70 anni qui l'emozione si è già alquanto calmata però speriamo che alla fine dell'anno la guerra sia terminata sarebbe ora le charlie della signora Van Dan sono insepportabili ora non può più scherzare sull'invasione allora blattera tutto il giorno sul cattivo tempo dovrebbe voglia di ficarla in una tinozza d'acqua fredda in soffitta la tua Anna non fece in tempo a vedere il geniale eroismo di uno dei grandi militari della seconda guerra mondiale perché vedendo che i nazisti stavano tornando in Normandia il generale Patton prese direttamente un carro armato e nel film che lo celebra si vede che sta sopra in piedi e i soldati gli domandano cosa fa il generale doveva a Berlino figliuolo voglio vedere Hitler direttamente altrimenti forse se avesse saputo dell'arrivo di Patton e della ritorsione antinazista avrebbe avuto le ultime pagine non così tristi ma un po' più liete da dire ci sono alcune domande da porgersi se sappiamo certi elementi di fondo senza i quali non possiamo accedere ai libri di Roth allora le fughe ebraiche dalla patria iniziale si articolano verso ovest e verso est verso ovest saranno i sefarditi e verso est gli aschenaziti i sefarditi a base fortemente ispanica con sinagoghe loro particolari io ho parlato più volte nella senagoga sefardita di Pesaro è una meraviglia assoluta da un punto di vista architettonico gli aschenaziti sono un po' più deboli perché la loro tradizione era più da piccoli contadini da piccoli bottegai da poveretti sostanzialmente quindi ad est i sefarditi ad est gli aschenaziti ad ovest i sefarditi riti differenti uguali persecuzioni negli anni tra il 4 e il 500 quando comincerà la ghettizzazione che si perpetuerà orribilmente con tutti gli errori saputi e non saputi che sono stati perpetrati il ghetto di Bologna lo conosciamo benissimo e sappiamo che l'intitolazione della stradina via dell'inferno non significa affatto che ci fosse l'inferno ma che c'erano gli ebrei in modo consueto di trattarli di fare riferimento a loro dunque aschenaziti dunque ebrei dell'est che si danno una lingua e questa è la cosa più importante per noi lo iddis perché tanti di questi autori scrivono in iddis e tutti e tre i volumi hanno un vocabolario in fondo perché è giusto che la mamma protagonista sia rispettata e quindi le sia consentito di parlare in iddis dall'altra parte la dimensione seferdita è molto ispanica è più ricca si adegua di più ai territori dove vengono collocati la persecuzione comincia tra il 5 e il 600 a farsi più crudele via via che che sorgono gli stati nazionali che sono quelli che sentono come maggiore inimicizia la presenza di queste comunità autonome nel credo autonome nelle funzioni e tramite lo iddis autonome anche nella lingua giustamente quando si fanno libri su questi ambiti si fa come il mio amico carissimo Carlo Ginburg figlio di madre ebrea perché Natalia è non una Ginburg è leone il babbo Natalia è una Levi e quindi ebrea assolutamente e anche questi hanno dovuto vedere all'interno della SOA la tragedia appunto del grande Einaudiano traduttore scrittore appassionato traduttore di letteratura russa Carlo Gilbur che morirà per le torture dei fascisti nel centro di torture romano durante gli ultimi mesi dell'occupazione all'interno di questa dimensione Carlo ha intitolato il suo libro sulle migrazioni dalla Spagna storia notturna perché tante cose si sanno molte sono misticate molte stravolte molte esplicitamente ricche di menzogne per colpire questo popolo che aveva un tempo come saluto l'anno prossimo a Gerusalemme perché effettivamente non si era non si erano mai trovati all'interno delle terrificanti situazioni di sofferenza tortura alienazione brutalizzazione nelle quali erano capitati e così succede anche alla famiglia dei Roths che a un certo punto lassia la mitte l'Europa del loro amabile amato linguaggio e se ne va negli Stati Uniti cosa si trova negli Stati Uniti miseria persecuzione sofferenza e cosa fa il nostro narratore prova a raccontarcela questa vita degli ebrei new yorkesi e fa un primo libro stupendo incredibilmente bello è la storia di un ragazzino che a un certo punto si trova in possesso di una strana capacità legge le scritture come se fosse uno dei loro più sapienti sacerdoti e questa però non è una bella prerogativa perché lo isola in una dimensione dove più isolato quasi non si potrebbe pensarlo allora dopo tutta una serie di vicende dove si mescolano anche linguisticamente la quotidianità idis la persecutoria carica di violenza dei new yorkesi di altri credi in particolare i cattolici irlandesi che sono i più cattivi e anche i più robusti si arriva al momento in cui deve fare la bar misda che qualcuno chiama la loro credima anche se non mi sembra ad avere proprio trovato niente che consenta questa definizione e qui si rivela così straordinario nell'apprendimento nella decifrazione nella lettura della Torah che mandano a chiamare un rabbino europeo il quale constata che in questo ragazzino c'è qualche cosa che negli altri non c'è può capitare può essere che sia così ci avvisa Anatole France di qualche cosa che dovremmo star sempre attenti a considerare oggi più che mai con l'aria che tira perché fra le altre belle cose che ha fatto la grande editrice che ci dà commissari televisivi ma anche splendidi romanzi e splendidi traduzioni che ha dato il procuratore della Giudea e quello è un libro di Anatole France quindi di un furbo socialista radicale e ateo che racconta la storia di uno che si muove nell'impero romano andando a comandare qua là e c'è una fine che sembra scritta da Henry Roth Anatole France per gli amatori di Prusse ce ne sono in questa ampia ex chiesa moltissimi è Bergotte è quello che si chiama Bergotte nella Reserse e questo libro racconta la storia di uno che per castigo era stato mandato dai Giudei a fare il procuratore e si chiamava Ponfio Pilato e non si era trovato bene per niente e siamo a 30 righe della fine e l'amico gli domanda Pilato ascolta una cosa mentre eri procuratore là in Giudea ci fu un matto che cominciò a dire che faceva miracoli che risuscitava la gente che guariva faceva rivedere la luce del sole ai cechi tant'è vero che a un certo punto poi mi sembra che l'hanno addirittura crocefisso e Pilato risponde no 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 per carità io ho stato benissimo in Giudea proprio gli anni che dici tu proprio quelli in cui si doveva capitare in quel modo ma io non ho visto niente ora il non vedere l'esserci essere in sonno sonnecchiare è qualcosa che riverbera anche in questa dimensione così particolare della quale diamo finalmente un saggio è la fine di Chiamalo Sonno nella fine di Chiamalo Sonno Henry Roth ha posto in essere qualche cosa che negli altri libri non c'è evidentemente i 60 anni di appartata sofferenza e devono fare moltissimo riflettere gli hanno cambiato il modo di esistere il modo di scrivere il modo di pensare sicuro avanti ragazze il bambino ora ha bisogno di un po' di calma che dite forza signori ma li conosciamo obiettarono delle voci proprio qui no con indulgenza non tutti quanti avanti tornate più tardi uno alla volta visse uno scalpiccio di piedi generali un murmurio di proteste er fu si so in far abisa el geld schernì la donna con le braccia nude mentre usciva aggizena karenk e ignidis ha detto si dà un grand'affare per un po' di soldi e che gli venga un accidente ho le scarpe e i calzini di devi signore piccolò la voce di un bambino viene al ed air con me bravo ecco lasciere qui avanti voi altri questo vale anche per te salmone piedi che oltropassavano la soglia voci che svanivano la porta fu rinchiusa beh le ho fatto un po' di silenzio in casa disse la guardia buffo eh tutti i guai che ci combinano questi nostri figlioli è quello che dico anch'io Cristo io sono un poliziotto non riesco a tenere in riga neanche il mio porta a casa certe pagelle che ti fanno diventare grigi i capelli beh la mia zona è questa in caso voglio vedermi qualche volta mi chiamo Walt si esce nel vano della porta come ti senti giovanotto eh ora come ti senti starà benone sicuro è già lì pieno di diavolerie se ti ribecco ad armeggiare intorno a quelle rotaie ti faccio vento col mio bastone lo vedi not agitò una palma aperta si volse usì lui aveva finito il suo tè l'improvvisa trabocante ondata di caldo che riempì la qualità del suo corpo esatto portò perline di sudore nella sua fronte e sulle labbra la biancheria gli era stata incollata adosso segnandoli in linguine la valamente del letto dove giaceva era diventato sgradevolmente umido e caldo contorcendosi si sportò verso l'orlo del letto su cui era seduta sua madre dove era più fresco e si lasciò andare all'indietro fiaccamente ancora un po' domandò lei posando la tazza sul davanzale della finestra no mamma ma non hai mangiato nulla da stamattina tesoro avrai fame no? lui scosse la testa e per alleviare il martellare del piede destro lo fece sivolare furtivo da sotto le coperte dietro di lei per tenerlo più fresco suo padre era sulla porta i lineamenti dissolti nell'oscurità si vedeva chiaramente soltanto lo scintillio dei suoi occhi fissi sulla gonfia caviglia grigia sua madre si voltò al passo di lui guardò anche lei il piede rigonfio aspirò il fiato che si bilotta le sue labbra sporte in fuori dal dolore povero tesoro povero piccino la mano di suo padre cade pesantemente sull'intelaiatura della porta ha scritto il nome di una medicina che dobbiamo prendere disse bruscamente da spalmagli sul piede ah sì lei si alzò a mezzo vado a comprarla resta costì il suo tono perentorio mancava di forza come se egli parlasse per abitudine non per convinzione farò prima io ad andare a comprarla le tue vicine me non mi tratterranno con le loro lingue ma invece di andare rimase dove era ho detto che fra un giorno o due starà meglio lei rimase zitta ha detto che fra un giorno o due starà meglio ripete lui beh sì è naturale beh nulla vi fu una pausa suo padre si schia di la gola quando parlò la sua voce aveva una strana espressa come se stesse provocando un colpo al tempo stesso si corazzasse contro di esso è colpa mia dirai tu è così lei scosse la testa stancamente a che serve parlare di colpa Albert nessuno l'aveva previsto questo nessuno è l'unico responsabile se si deve parlare di colpa allora è anche mia non te l'avevo detto mesi e mesi fa la sai che stesse ad ascoltare l'ho perfino spinto giù per per proteggerlo da me sì i denti di lui scricchiolarono il suo petto si sollevò l'emissione del respiro sembrò farlo leggermente vacillare vado a comprarla si voltò pesantemente lasciando il vano della porta David ascoltò il passo sordo ridido di suo padre attraversare la cucina la porta fu aperta rinchiusa una vaga remota compassione si mosse dentro il suo petto come la spirale di un fumo sfilacciato che si disperdesse tenue entro il suo estere una specie di torpido dolore che aveva provato volta e volta in inverno svegliandosi a notte fonda e udendo quel passo sordo di stendere le scale forse fra un po' avrai fame disse persuasivo a sua madre dopo che ti sei riposato un po' e ti abbiamo messo la medicina sul piede e poi un po' di latte un uomo la coc ti andrebbe la sua domanda era già abbastanza rafforzata da un tono affermativo perché fosse necessaria una risposta e poi ti addormenterai e dimenticherai tutto fece una pausa i suoi scuri occhi castani cercarono quelli di lui hai sonno tesoro? si mamma poteva anche chiamarlo sonno era soltanto in prossimità del sonno che ogni battito delle ciglia poteva provocare una scintilla controlesca confusa del buio accendere negli angoli oscuri della stanza una tale miriade di vivi zampilli di immagini un lucichio su barbe inclinate l'ineguale scintillio su dei pattoni la dura luce sugli scalini di pietra grigia di un portone l'affusolato splendore delle rotaie la lucentezza oleosa dei fiumi lissi nella notte il brillio di sottili capelli biondi di facce rosse il brillio delle palme aperte e tese di legioni e legioni di mani che si precipitavano verso di lui poteva anche chiamarlo sonno era soltanto in prossimità del sonno che gli orecchi avevano il potere di cogliere ancora e di rimettere insieme il grido acuto la voce rauca l'odolo di paura le campanelle il respiro spesso il rugito delle folle e tutti i suoni che giacevano fermentando nei tini del silenzio e del passato era soltanto in prossimità del sonno che uno sapeva di essere ancora disteso sui ciottoli che sentiva i ciottoli sotto di sé e sopra di sé eternamente diretta verso di lui come una specie di schiuma nera sentiva la nuve perenne di piedi calzati che correvano le scarpe rotte le scarpe nuove le scarpe a tosse a punta infangate lucidate sformate dai piedi callosi rovinate dai selzati pesanti sotto le sottane sotto i pantaloni le scarpe sopra di lui e attraverso di lui e le sentiva tutte e sentiva non dolore non terrore ma il più strano trionfo la più strana acquiescenza si poteva anche chiamarlo sonno chiude gli occhi non posso evitare sono un citazionista di professione di rimentare un episodio personale che ho sempre accostato ad alcune parti di chiamalo sonno nel triennio tra il 1972 e il 1975 sono stato coinvolto in una sperimentazione che si svolgeva alle scuole Carducci e che consentiva a un certo numero di insegnanti di insegnare una materia a loro particolarmente cara purché avessero i documenti che provassero che erano competenti a me toccarono due compiti pittura nell'atelier perché avevo un certificato dell'Accademia di Belle Arti e coordinamento complessivo dell'esperienza non ho resistito in tre volte di entrare in chiamalo sonno in che modo? c'era la messa annuale e c'erano tre bambini testimoni di Geova che venivano tirati indietro poi c'era un bambino ebreo questo quartetto veniva dato al professor Faeti come il direttore Pulsè voleva che fossi chiamato e per il tempo della messa me li tenevo io come si dice in bolognese facevo l'asino cioè strabigliavo talmente tanto tra giornalini disegni sciocchette di ogni tipo che il bimbo che il bimbo ebreo quando tornavano che rientravano faceva vi siete persi Faeti tutututum ho voluto ricordarlo perché vi siete persi Faeti e la penultima pagina di chiamalo sonno è chiaro che io vedevo cosa c'era nel bimbo è chiaro che non era affatto vi siete persi Faeti ma il bambino provava a chiamarlo sonno perché? perché ha appena compiuto un miracolo sembra che quel famoso elemento negativo del procuratore di Giudea lui l'abbia preso lui ha fermato con una mano un tram che andava velocissimamente allora bisogna particolarmente nasconderlo allora bisogna chiamarlo sonno bisogna che su tutto venga il silenzio perché quello che mi voleva dire il bimbo vi siete persi Faeti e lo fece per tre messe in tre anni consecutivi poi interruppi perché passai direttamente all'università era esattamente quello che c'è qui dentro e di cui lui al di là di tantissime esperienze ricordo quando nella sinagoga di Pesaro ho presentato Maus Maus è un capolavoro fumettistico che riguarda moltissimo la SOA e c'erano questi vecchi con ancora i numerini che chiedevano di poterlo acquistare dove era chi l'aveva davvero fatto e è uno dei nostri professori e disegna così bene Maus ora dobbiamo fare attenzione a una cosa è inutile negarlo ma i sei milioni di massacrati nella SOA non stanno contando più niente si sbugiardano si nascondono si scrivono storie molto particolari è nato il negazionismo il negazionismo ha anche trionfato da qualche parte e così via io credo che sia assolutamente insopportabile che avvengano queste cose credo anche che all'interno di questi libri di sofferenza e di dolore ci sia qualche cosa che non c'è in altri libri non c'è nemmeno nel diario di Anne Frank perché evidentemente bisogna avere strutturato l'esperienza in una maniera differente come quella che gli è capitato di fare quando un agente letterario e lui era già malato e l'agente rischiava molto gli commissionò di andare avanti ce l'ha fatta questa volta e proprio riuscito a fare tutte e due i volumi però abbiamo alcune cose che è obbligatorio fare cosa c'entra questo con Giannino Stoppani perché questo è il secondo itinerario dopo quello del ragazzino toscano e insieme si arriverà a maggio con altri itinerari di questo tipo proviamo a superare la provocazione quello che la vince su tutto perfino sulla SOA è la dimensione infantile tanto loro quelli che vengono presi in considerazione sui fiumi di New York sulle baie di New York sull'Artson quanto Anna quanto quello che viene preso in considerazione nel primo dei volumi sono prima di tutto bambini non sono disgiungibili dal gym dall'isola del tesoro che incontreremo dal hack dell'isola dell'aclaberry film e di Tom Sawyer che incontreremo e neanche da Giannino Stoppani ovvero in questo corso si vedrà il viaggio e l'infanzia primeggiare primeggiare perfino sulla Soa nel senso che l'infanzia e il viaggio hanno motivazioni vincenti da fare valere sopra quelle che si possono dedurre dalla dimensione storica della Soa e perché accade questo perché oso dire che la dimensione infanzia e la dimensione viaggio superino gli orrori della Soa ma superano anche il quieto morbido fastidiosissimo benessere borghese della famiglia Toscana a cui abbiamo già fatto riferimento il perché è la dimensione dell'infanzia come tale non l'ho portato ma esiste un altro diario parallelo a quello di Anna Frank molto meno conosciuto è più spietato e più terribile di quello di Anna è quasi illeggibile l'ha pubblicato ai naudi nei saggi anche quello e si chiama il diario di David Rubinovis un bambino ebreo massacrato dagli SS che nel periodo dell'occupazione ha spiato guardato e scritto Anne è un genio non c'è niente da dire sarebbe diventata comunque per forza una grandissima scrittrice avrebbe comunque stupito David no David è un ragazzino di campagna ebreo normalissimo che racconta con commovente semplicità gli orrori che vede di fronte allora in questo senso l'idea di occuparsi dell'infanzia di collegarla al viaggio di mettere la fuga la fuga di Giannino in primo luogo come elemento di fondo riporta all'oggi alle infanzie di oggi alle sofferenze dell'infanzia oggi ai problemi che la parola suscita oggi qualora si pensasse che dato che questi non hanno i persecutori new yorkesi né quelli della Mitteleuropa né nessun tipo di persecutore antiebraico antisemita stessero meglio non è questo il punto qui ci sono i fratellini di Giannino perché aveva ragione il grande pittore critico d'arte musicologo e fratello di De Chirico e pertanto non accettò mai di chiamarsi come lui e si chiamava Alberto Savinio e quando ha parlato di se stesso bambino in un libro edito da Adelphi ha intitolato il libro La tragedia dell'infanzia perché non ci sono infanzie non tragiche questo è il solennomoto di queste lezioni quando si incontrano i bambini cosicché se affrontiamo gli altri due cosa gli succede cosa cosa è una roccia per tuffarsi nell'Hudson l'ultimo prima della morte e una stella sulla collina del parco di Monte Morris è la terrificante disanima di un vivere ebraico nella metropoli negli anni trenta che non è un vivere felice che è un vivere di assunzione persecutoria di esclusione di sofferenza di castigo quasi come quello perpetrato in quelle zone che poi ovviamente diventeranno gli epicentri della sua vera e propria e allora se li prendiamo in mano questi capolavori a rischio della fine noi vediamo che hanno qualche cosa da dirci più che mai oggi sempre che si sappia che vanno interpretati sempre con la sua a portata di menzione di visione perché se riuscissimo a dimenticare perfino la sua non saremmo egelianamente costretti a riviverla e roba da ridere quello ci capiterebbe qualche cosa di perfino peggio vediamo come si vive in questa strana dimensione che è fatta così le case se hanno degli ebrei vengono automaticamente depreciate le case hanno un ordinamento affittuario perfetto bisogna scriverci fuori qui non abitano né ebrei né italiani è un referente bello valido tant'è vero che ne merita quasi sempre anche un altro riscaldamento centrale l'affittasi è così concepito negli anni trenta nella capitale del mondo qui non abitano né ebrei né italiani riscaldamento centrale all'interno di questa dimensione si parla sempre i dis gli italiani si difendono parlando i loro dialetti gli irlandesi si danno delle arie ma spesso sono così ubriachi che quelle arie si tramutano in fiati che potrebbero fornire la materia a un pallone aureo statico ben i levinski cadde dalla tettoia della macelleria traife della terza avenue la macelleria tedesca dove erano appese quelle belle salsicce grasse i bei bustel pepati e carnosi e tante mortadelle o nelle macellerie gois sapevano far sembrare la carne così appetitosa lo diceva perfino la mamma con gli ossi dell'arrosto sollevati come una corona il roast beef ben legato tutto intorno con lo spago il tacchino con il petto prominente allettante non come in una nostra macelleria casar dove la carne sembrava proprio morta e una gallina pendeva dal suo gancio in vetrina come se fosse dispiaciuta di sembrare da morta così poco attraente ben stava cercando di rubare un salame anche se era treife cioè carne impura ma invece cadde della tettoia proprio un tendone della macelleria una bella fortuna no e così rimediò soltanto un calcio in culo allora se a nove anni fosse caduto giù nel seminterrato sarebbe stato di fatto estinto che fallimento che fallimento era quando giocava a palla una volta fu colpito in un occhio mentre passava per la centodiciassettesima strada tornando a casa dopo essere stato da baba si sedette si sedette sull'orlo del marciapiede singhiozzando mentre il proprietario della palla si avvicinava a 4-4 a dove aveva rottolato vicino a Ira e la ferrava e scappava via e la primorosa massaia ebrea che domandava che cos'hai e maleduceva i giocatori che ormai erano spariti e Ira si inghiossava seduto sull'orlo del marciapiede all'angolo fra la centodiciassettesima strada e Perk Avenue baseball proprio la cosa in cui era un peggiore un disastro un fallimento un imbranato non sapeva intercettare non sapeva colpire non sapeva correre era sempre l'ultimo a essere preso quando si facevano le scelte a Badbol a Palamano a Palamuro scelto dopo tutti gli altri se un ultimo giocatore era proprio necessario scelto per modo di dire incluso con un gemito di reluttanza bravo in nessuno sport eccetto che nel football senza placcaggio la palla era così grossa che doveva essere presa in modo così diverso le braccia il corpo con le mani e per lui aveva imparato a calciare straordinariamente bene e nel nuoto perché l'acqua era il suo elemento ma nient'altro era bravo né con le trottole né con le biglie né con la dama in primavera quando era in quarta l'insegnante li portò al palco di Monk Morris e tutti afferrarono un lungo nastro e fecero un cerchio attorno al palo di Calendimaggio cantando quel senso di novità quell'innocenza non sarebbero mai passati e quando in piena estate strussiò su un ruvido orlo di gramito del marciapiede quei noccioli di susina dopo che ci aveva tolto il seme il seme amaro per farci un fischietto ma c'era qualcosa di insolito in come Ira stava attaccato alla mamma sui gradini dell'ingresso in piena estate e perfino imparò a fare il merletto su un fazzoletto teso fa due cerchi di legno come faceva la mamma e lei che rideva di lui davanti ai vicini quasi a scusarsi e che meravigliosa posta di luce verde riempì il cielo a ponente una sera dopo l'acquastone non avrebbe mai più rivisto niente di simile smeraldo raro smeraldo da fissare rapite i ragazzi entravano di nascosto nel cinematografo vedeva ancora quel Levinsky acciuffato dal gestore del cinema e preso a sonori scappaccioni davanti all'entrata una volta la mamma lo portò a uno spettacolo di varietà di cui lei capì solo qualcosa i giocodieri i ballerini di tip-tap e le barallerine avaiane e ebree con i loro gonnellini d'erba che ondeggiavano al pizzicato degli ukulele mentre cantavano iuccaula wikidula moise l'arma il fin tola te li rendo d'un man l'altro fare il giro delle banche sott coppa la crè in cumain è un solito infulto agli ebrei che mescolando un po' di avaiano chi lo sa al solito iddis hanno sempre soldi da rendere perché li hanno nascosti avidi come sono purtroppo Ira fu talmente preso dall'assurdità della canzoncina moise l'aermi il fin tola voleva dire moise mi presti cinque dollari che mosse di scatto la testa colpì la mamma sul naso lei gli tirò uno schiaffone meccanicamente se uno andava al cinematografo da solo di sabato era meglio se ci andava con tre centesimi e aspettava fuori un qualche amico con due centesimi questa proporzione portava facilmente alla missione che non quella inversa e chiedeva a un adulto che stava per comprare il biglietto signore ci fa entrare con lei due per un cinquino era il prezzo d'ammissione per i bambini il sabato mattina le tenta tutte poveretto deve ad un tempo fare il liceo ma vendere i gelati alla partita di baseball e chissà perché perché il dis è sempre lì tutti si ricordano di dirgli vieni qui maledetto ebreo quello non c'è modo assolutamente di evitarlo una cosa che è straordinaria sconvolgente neanche vicina ai grandissimi sperimentatori del nouveau roman francese ma molto superiore e c'è qualcosa che c'è qui dentro a questi libri quando ha ricominciato a scrivere si è posto in una duplice situazione che viene evidenziata dal corsivo rispetto al bastone come si dice in tipografie nel corsivo lui racconta perché ha scritto così perché 60 anni dopo ha voluto toccare quell'argomento presentare quel personaggio indicare quella strada così questi sono libri assolutamente impagabili anche sul piano della sperimentazione letteraria perché sono proprio costruiti rigidamente in questi due modi andavo a notare ma non mi volevano sporco ebreo vai più là che rovini tutta la baia con la sporcizia che ti porti dietro dall'Europa oppure non ce l'hai un gabinetto a casa devi per forza orinare ma io non ho fatto niente ma sai per farlo sei un ebreo e così via e allora interviene con pezzi grandi così e dice certo mi capitava anche quello certo ho sempre avuto paura di avviarmi alla toalette tanto nel liceo dove mi avevano accolto malgrado ebreo e così via quindi questa lezione urbana è più voci è terrificante è perfida ma nello stesso tempo non è solo così ci sono anche dei momenti dove il potevi anche chiamarla sonno ritorna fuori che cos'è il potevi anche chiamarla sonno è qualche cosa che si coglie in una dimensione oggi molto molto tornata presente le notizie che ci giungono dal Brasile mi costringono a ritagliare parecchio dai giornali che ho il vizio di acquistare è questa eterna doppiezza è questo vivere in certo senso mai come se fossi un'entità ma sempre due o tre sempre come se ti dovesse arrivare sopra una calamità perché la colpa te la porti addosso con l'accento i dis o col fatto che ti vedono andare in sinagoga o col fatto che hai certe abitudini alimentari che sono talmente pesanti in comunità dove conta molto l'appartenenza alimentare perché non c'è quella culturale gli italiani si capisse chi sono perché hanno tanti spaghetti non perché hanno letto Dante o perché sono compatrioti di Galileo e questo vale per tutti sì il mondo stava cambiando era diventato un guazzavuglio c'era lo scandalo del teatro pordom del petrolio di mister do c'erano le conferenze per il disarmo c'era il pericolo giallo contro il quale metteva in guardia lo siovinistico e terroristico journal american il quotidiano della catena east che il non leggeva mai se non quando suo padre lo portava a casa del ristorante sosta inevitabile per una citazione anche quest'anno il più bel film di tutti i tempi è quarto potere la giuria lo ha ribadito cosa racconta quarto potere la catena erst la quale è terrificante nel momento in cui Ken si chiama così Citizen Ken viene trovato da uno della concorrenza mentre cena con una bellissima donna che non è sua moglie allora salta subito in piedi e dice vieni mia andiamo via lasciamo questo gentiluomo da solo e Orson Welles che oltre che il regista è anche l'attore esse in questa memorabile frase andiamo mia cara vieni lasciamo da solo questo gentleman è questa l'atmosfera si dimentica sempre di dire che Citizen Ken il film più bello di tutti i tempi in tutti gli anni racconta la catena erst cioè la catena di giornali più antisemitica della storia dell'umanità e una noticina gliela metterei anche nel loro modo chiassoso inimitabili anche i poliziotti del coro locale resero omaggio al grande fisico e quando furono invitati a uno spettacolo per gli studenti della David Clinton durante le loro regolari assemblee del venerdì intornarono con entusiasmo quanto è alto il su quanto è basso il giù quanto è veloce il lento quando avremo i nostri soldi quando è notte in Sicilia si può berne un goccio nel Massachusetts quanto è alto il su e quanto è basso il giù il mondo stava cambiando era diventato un guastavuglio c'era lo scandalo del teatro del petrolio di Mr. Dohny c'erano le conferenze per il disarmo e il pericolo giallo con le quali metteva in guardia lo sovinistico e terroristico Journal American il quotidiano delle catene istiche Iran non leggeva mai se non quando suo padre lo portava a casa del ristorante già c'era anche Henry Ford e il suo Dearborn Express che accusava gli ebrei di essere infidi avidi alleati contro l'America impegnati a diffondere il bolsevismo e l'ateismo e a conteggiare i sani americani con il loro virus inmediabile di senza Dio tutti erano sicuri che Lenin e Trotsky sarebbero stati presto abbattuti l'anno seguente al più tardi ma poi c'erano le spedizioni le bande i vigilantes i cuclucan con i mantelli i cappucci bianchi i linciatori che appendevano tutti i neri che trovavano e c'era William Farnum la torre del cinema con le sopracciglia sempre mobili la mira infallibile fulmineo nelle strade la rivoltella c'erano l'acrobatico Douglas Farben l'astruggente Mary Poppitt Bull Montana ma c'era anche il meraviglioso Charlie Chaplin non dice che era un ebreo perché sembra non azzardarsi neanche di fronte a noi lettori c'era anche la normalità l'alto costo della vita la prosperità naturalmente suo padre lavorava sua madre metteva da parte i soldi per un cappotto d'agnellino persiano gli zii di Aira Max Henry non avevano terminato le scuole avevano abbandonato il mestiere di guantai e di pellicciai unendosi a Morris a Sam nel lavoro del ristorante aprendo una cafeteria nel quartiere giamaicano a Queen dove avevano fatto fortuna al di là delle loro più rose e speranze in quanto Aira aveva una nuova speranza un'esperienza scolastica finalmente esaltante non solo gratificante e lusinghiere per gli ottimi voti ottenuti il nobilitante avrebbe voluto dire se non che gli altri avrebbero riso di lui eppure era questa la sensazione che rilovava nella stima di sé gli dava euforia e sicurezza almeno in una sfera di sanità mentale per la prima volta in vita sua aveva la sensazione di comprendere almeno una materia e non soltanto i suoi aspetti ma anche nel fondamento su cui si basava la materia era la geometria piana e diventò per lui una sorta di ancora di salvezza e di paradiso nella sua vita senza scopo depressa tormentata e sfiduciata la geometria piana confiava sempre nuove verità da quelle che erano vecchie elevando miracolosamente un vertiginoso edificio di prove basate su alcuni assiomi era come temprare l'opaco truismo con lucide verità ed ecco come vive orrendamente terribilmente tanto che tra i lavori le persecuzioni le botte i calci nel sedere e quant'altro la geometria piana gli pare ancora di salvezza perché lì è bravo anche se è ebreo e gli altri no cosa ci ha dato Henry Roth con questa strana vita con questa strana esperienza letteraria scrissi anche rapivano a proposito di questo articolo perché è molto onesto nemmeno lei si era accorta di Roth i lettori del Corriere avevano preso ieri la notizia della morte di Henry Roth giunta nella tarda serata di domenica nel commosso esauriente articolo di Alessandra Farkas ora vorremmo aggiungere qualche considerazione critica su questo scrittore divenuto famoso soprattutto per il romanzo Chi ama lo sonno pubblicato in Italia da Garzanti mi dispiace è Lerici diciamolo Garzanti non lo vuole invece l'onesto coraggioso anticonformista Lerici lo volle e dai Roth lo iniziò nell'estate del 1930 mentre viveva nella colonia di artisti di Peterborough da New Hampshire con Ada Lou Walton una poetessa più anziana di lui che lo introdusse nei circoli intellettuali cominciò a scriverlo in prima persona con una vera autobiografia mantenendo questo tono per le prime 75 pagine prima di passare due settimane ad attenuare il primo impulso autobiografico nacque così il vero libro abbossato a matita nei foglietti azzurri della compagnia dove Roth costruiva le vicende del romanzo trasformando i personaggi veri in personaggi letterari Roth lavorò al libro per tre anni e mezzo imparò a scrivere il romanzo scrivendolo prima nella colonia di artisti poi a Norwich nel Maine specialmente nel 1932 nel 1934 mandò il manoscritto a vari editori se lo vide respingere da tutti con la motivazione che l'argomento non avrebbe trovato un mercato propizio perché c'era la depressione a scoraggiare gli editori fu forse la profondità dello studio psicologico del protagonista bambino sensibile e mistico in cerca di una illuminazione divina ecco allora che ci avviamo ad un'altra componente è perfetta la coincidenza di stasera perché Lele Lussati che è stato un mio amico carissimo era un ebreo credente ed i suoi disegni assomigliano moltissimo a quelli che ha fatto per alcune sinagogue e a quelli che sono visitabili al secondo piano del nostro museo ebraico che dire se si può azzardare una conclusione di questa materia così gigantesca mi sembra questo ci sono degli scrittori che non sono separabili dai loro liberi ce ne sono molti da qui a giugno da qui a maggio perché la dimensione viaggio è una dimensione talmente personale quando è vista narrativamente da far sì che si potrebbe stabilire quasi uno stesso scaffale che è in fondo Tom in questa terrificante cittadina americana se non un compagno di sventura del ragazzino che aspira a stranezze ebraiche ed è anche lui proprio come Tom messo piuttosto ai margini e le marginazioni di Jim se becco quel ragazzino Jim gli tolgo il collo con una mano sola i pirati gli adulti gli abitanti irlandesi e gli ebrei la borghesia fiorentina e Giannino allora ricordiamoci che il viaggio è eminentemente questo che è vero che si va a cercare l'isola del tesoro e si va a nuotare tutti i pomeriggi estivi nell'Azion ma è vero che si cerca qualcosa si cerca quella dimensione del non-sense infantile adolescenziale che permea tutto il corso fino a maggio l'adolescente in realtà non cerca altro che se stesso però intorno gli adulti siano i quasi parenti di Giannino i pirati non pentiti di Jim o l'immensa metropoli del rassismo di Henry Roth che li hanno sempre intorno in questo modo così cogliamo il significato vero della proposta del corso così guardiamo attentamente alla impossibile storicizzazione di una persecuzione che purtroppo è ancora perdurante e che potrebbe trovare in alcune delle antiche patrie dei nuovi accenti è grandissimo non lo sa nemmeno lui quanto lo è perché in questa dimensione quando passa al corsivo dove regredisse a fare i conti con la narrazione fa qualcosa che gli sperimentatori non hanno fatto si provi a pensare che arriva Don Abbondio poi si passa al corsivo e c'è scritto Don Abbondio non è mica un lombardo mi venne in mente guardando un parroco toscano mentre stavo a pulire i miei panni in arno ecco i libri sono fatti così costantemente ci dice perché lo scrisse cosa aveva in mente cosa non voleva scrivere cosa gli venne scritto comunque è qualche cosa di straordinario nello straordinario perché non ci sono davvero libri paragonabili a questo che in fondo anche se sono due libri separati uno e gli altri due da unire qualche cosa di unico insieme forse essendo impossibile ovviamente un risarcimento ci mancherebbe altro per la SOA si può accettare l'idea che l'infinita sofferenza rende genio una ragazzina perché non ci sono ragazzine come Anne e Frank e rende particolarissimo e unico uno scrittore new yorkese forse c'è un'ombra di risarcimento vediamo invece come si comporta Lele Lussati caro amico caro amico oltre che geniale rivoluzionatore delle tecniche grafiche perché adesso vedrete che è isolato come rock qui abbiamo il tipico diffondersi coloristico della mano in contrasto con il graffitismo degli altri elementi la tigre e la colomba con il pezzo materico sotto non si finisse di lodare questa ormai novantenne disegnatrice del Corriere dei Piccoli che ha inventato dei characters memorabili perché abitualmente scrive anche le sue storie ancora grazie a Nidalio al servizio di questo alfabeto ebraico lei non è ebrea lei come me ha solo molti amici in quell'ambito gli è stato chiesto di fornire questo particolarissimo contributo di un'eleganza di una dottrina e anche di una bellezza caritatevole perché qui per fortuna le espresse a volte anche molto molto tristi e commoventi di Roth non ci sono c'è un'idea come se potessimo avere voltato pagina andato in una direzione finalmente di diritto al conseguimento della felicità di cultura analoga a quella di altre infanzie così può permettersi tutto perché è di quelle disegnatrici di quei disegnatori che hanno una così vasta gamma di proposizioni espressive e una sapienza tecnica talmente incredibile da poter entrare in tutti gli ambiti fino a questi magici colpi di cui ha riempito il suo capolavoro che per me resta il dottor Oz per quanto abbia già più di 60 anni di vita questo invece è Lele e sembra appunto un commento alle pagine di Roth con l'idea che sia questo bambino a vivere come in chiamalo sonno un'esperienza di doppiezza che lo lascia sbalordito perché fuori è un poveraccio miserabile preso a calci ma in sinagoga è un sapiente in sinagoga addirittura sconvolge l'ordinamento rabbinico e si muove in una dimensione molto pittorica Lele anche dipingeva molto d'avanguardia e quindi ritroviamo delle allusioni come in questo caso al suo maestro Munari e in generale a quella che qualche volta si chiamava la scuola milanese perché ricchissima di nomi di tendenze di gallerie e di prodotto e questo l'ha fatto da credente l'ha fatto da osservante nel senso che la dimensione che in rotta troviamo densa di mistero di alterità di separatezza di adesione forzata al rito con alle volte il senso dell'indegnità perché la sinagoga e questo in chiama lo sonno è fortissimo è luogo di annessione ma è anche luogo di esclusione perché lì si diventa lì ci si scopre lì si analizza lì ci si autoanalizza e questo caratterizza in modo insidioso molte infanzie di letterati ebrei ha costruito mirabilmente il modo per afferire a una sapienza rabbinica un modo per afferire a una religiosità che è accostabile da un lato alla far dottrina che era o è nostro dall'altro al tenere sempre presente però che si tratta del popolo eletto sì ma perseguitato ma costretto a fuggire ma spinto nei forni della soa senza che si possa mai ovviamente dimenticare questa trafila anche questa altra tecnica che qui pone in essere per raccontare qualche cosa di diverso e cioè l'entità ghetto in una città come Venezia è la tecnica dei collage che qui vediamo sono appunto incollati come dice la parola a trasformare certe zone che necessiterebbero di colorazione come il canale in basso e sono ritagli di carta azzurrina e così quella specie di porta marroncina mentre i personaggi sono disegnati questa composita tecnica pittorica al servizio della dottrina e dell'illustrazione è messa in evidenza da uno che conosce intimamente questo prodursi di una vita di quotidianità all'interno all'interno sempre e noi lo sappiamo perché le nostre città lo mostrano con evidenza il nostro ghetto è architettonicamente sociologicamente urbanisticamente identico a quello di Pesaro e sono due città incredibilmente diverse ma i ghetti più o meno sono sempre uguali perché c'è la segregazione il lasciare pochissimo spazio il dare volutamente nell'urbanistica di qualunque secolo un senso di soffocazione agli ebrei che erano costretti a viverci così van via citazione da un altro grande pittore ebreo da Marsagal il quale viene direttamente qui però è riproposto da Lele dalle stesse fonti dove ci sono gli spazi di memoria non solo linguistica in tutte le pagine si può dire dei tre volumi di Roth e quest'idea che è anteriore all'olocausto dopo sarà permeata di altri messaggi perché la sua ha portato a costretto a tenere presente altre deduzioni e questa era la festevole vita di questo popolo che stava tra una persecuzione e l'altra allora erano più che altro gli zar a perseguitarli tra il violino e l'organetto a produr cultura a loro modo e qui si sente anche molto che Lele partecipe di questa dimensione figurale che sente di dovere documentare un po' tutti non solo gli appartenenti al suo credo per dare l'idea di una conoscenza visiva migliore e maggiore e a me sembra proprio che rispetto a altri illustratori molto pochi per la verità che hanno tentato di raccontare questo mondo Lele abbia capacità espressive e comunicative che gli altri non hanno e questa è la parte rara ma un poco presente anche nei libri di Roth perché tra una persecuzione e l'altra verrebbe da dire perché il ragazzino è povero quindi si paga gli studi facendo di volta in volta il venditore di bibite nei grandi match di Bailball oppure il vice commesso in qualche negozio oppure il trasportatore di derrate insomma quello che gli riesce perché adonta dello stereotipo principale che colpisce il popolo ebraico lui e la sua famiglia non hanno neanche da mangiare però lui vorrebbe studiare e quindi fatica per pagarsi gli studi la serenità che qui si suggerisce è però giustamente colpita dall'uso di quegli blu scuri e dall'idea di chiusura l'idea di intensità all'interno non di vastità non di apertura non di respiro che Lele giustamente vuol dare alle sue tavole e importante è tutta la vicenda della demonizzazione perché sappiamo che tutta la traiettoria del golem tutta la dimensione cimitero praga più narrative adeguate ha trovato una grande collocazione nell'immaginario occidentale e così fa bene Lele a mettere insieme i brandelli di una matericità pittorica di altissimo livello questo è degno di comparire nelle storie della pittura accanto ai neo figurativi post-informali per durla lunga come della Milano degli anni sessanta e anche questa edificazione specificamente religiosa avente a che fare con dettami teologici esplicitati riconoscibili e addirittura nei fini del credente che ha operato con la mescolanza di collas tempera acquerello gessetti pastelli perché questo è il mondo figurale di Lele e c'è proprio la sensazione che sia un al di là esattamente come si avverte in ogni pagina si vorrebbe dire in ogni riga di Roth dove chi non è di quel mondo avverte una doppia fascinazione la fascinazione dell'altrove e non si dimentica di essere un buon pittore la volumetria di questa splendida pagina non è illustrativa ma è decisamente vicina alle tendenze pittoriche dei suoi colleghi dei suoi amici dei galleristi che lo immettevano sul mercato meriterebbe Luzzati una riproposizione quanto più possibile integra e vasta perché moltissimo ha contato ma aveva questo delizioso carattere di separatezza per cui eravamo in pochi amici ad avere il beneficio delle sue confidenze a imparare da lui le cose che stava facendo anche a livello teorico non solo materico ma questa è grandezza pittorica oltre che finalizzazione di tipo illustrativo e che il racconto biblico si componga in maniera altra rispetto a quello che appare più consuetudinario per molti dei presenti è qualche cosa che fa collegare come ci capita raramente di poter fare una dimensione figurale con una dimensione letteraria evidentemente al di là della infinita sofferenza della mostruosa strage dei rigurgiti ritornanti si è sempre salvato ciò che si vede qua e cioè il senso profondo di una identità che si fa anche cuore di un'arte malgrado la ghettizzazione malgrado la espropriazione malgrado le infinite traversie millenarie una voce di sapiente arte come Sagal legata ai dettami più nuovi più novecenteschi più propri della modernità pittorica e vengono queste immagini a proporci un'idea singolare credo che sorriderebbe come l'ho visto più volte sorridere delle cose che dicevo l'alterità c'è la si sente nell'ultima pagina di chiamalo sonno fortissimamente tutte le volte che si è voluto dipingere ritrarre disegnare fotografare la loro alterità si è rimasti sempre un poco al di qua di Lele Luzzati che sembra essere partecipe di un messaggio interno che dotato com'è riesce a tradurre nel visivo questo visivo che non si arresta mai neanche di fronte a un eserciziario che allude al nostro perché i destinatari sono bambini e bisogna ricordarselo anche quando si pensa che sono molto complesse elargizioni sapienziali quelli a cui vanno incontro questi bambini o questi adolescenti e qui ci sono tutte e due la sapienza e l'armonia giocosa del grandissimo grafico e in questo c'è qualche cosa di ancora più complesso perché è chiaro che questa figura potrebbe molto rappresentare la dimensione della SOA così come l'abbiamo sentita nei rari raguagli visivi dei sopravvissuti recentemente c'è stata una veramente ottima sabato sera straordinariamente redatto e composto sì questa è la bella ebrea di Ivano è la bella ebrea delle fiabe ebraiche e nello stesso tempo è un felicissimo ottenimento dell'arte italiana del novecento così come si allarga il discorso fino a questo sapiente montaggio straordinario questa mescolanza di pittura illustrazione collase che disfa i dettami consuetudinari che vigilano sull'approccio a questa celeberrima fiaba dando originalità sapienziale anche a questa tavola così come viene rivisitata interamente in termini assidim verrebbe da dire quest'altra famosissima fiaba e come questa festosità velata di toni tragici questa carnevalizzazione sapienziale e un poco tanatologica forse anche un po' di più che un poco mostrano quali possibilità abbia questo pittore così legato alla sua tradizione anche concettuale anche religiosa così come si prosiegue nella dimensione dell'accostare mito e fiaba che è sempre la grande risorsa narrativa per farsi capire dall'infanzia non tenerli separati ad operare l'uno per spingere l'altra e viceversa e ci sono dei momenti veramente di struggente commozione almeno nel mio caso nei confronti di questa capacità di aggregare quest'idea di mettere insieme con una dimensione pittorica che a volte sfiora l'informale oltre che a essere figurativamente eccellente di fare convivere questi due mondi che convivono anche nella pagina di Roth e così il fiabesco e la dottrina la sapienza e l'invenzione portano in un'altra direzione forse anche a capire che la dimensione ghetto una risorsa in tanta sofferenza in tanto patire in tanto rimordere o almeno dovrebbe essere così ce l'aveva quasi che non si possa essere inautentici e non lo è mai è sempre intimamente pervaso soprattutto delle cose che ha da dire del mondo da cui proviene dalle forme arcaico dottrinali che comunque ha incontrato dal fatto di dovere riproporre sempre in un altro modo come se la sofferenza di Roth se la fosse presa tutta con le sue matite sui suoi colori sui suoi corelli sui suoi collari grazie per l'attenzione grazie